Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, ultimo giorno di settimana della sesta settimana, ovviamente, andremo ad allenare le gambe. Cominciamo con squat, ovviamente. Faremo 4 serie per 5 con 70 kg. Non aumenterò forse, non aumenterò. Penso proprio di no perché 70 kg già li ho sentiti pesanti. Cominciamo con questo esercizio, però prima ovviamente ci rendremo a pesare. Ragazzi, 60 kg. Siamo tornati a 60 kg. Il grasso corporeo 13.7 kg. Rispetto allo scorso episodio, siamo aumentati di 200 grammi e la massa grassa è rimasta identica. Non è cambiata per niente. Ragazzi, squat completato. Adesso, come secondo esercizio, faremo la setia. Ovviamente, ora vi spiego. La setia nel senso. Io dovrò appoggiarmi al duro e sedermi così con un peso sopra le gambe. Faremo questo esercizio per 3 serie per un minuto. Un minuto. Un peso sulle gambe. Metteremo 10 kg all'inizio. Vedremo se ce la faremo. Ci vediamo all'esercizio. 3 serie. Un minuto. Desi piedi. Ci vediamo se. Grazie a tutti. Ok ragazzi, completato una cosa distruttiva, l'esercizio più duro che abbiamo fatto in vita mia per le gambe. Ragazzi, con il terzo esercizio adesso faremo la legge special con 44 kg. Quattro serie per tutti. Adesso ragazzi, alleneremo i femorali, faremo la legge special con 4 serie per 10 ripetizioni, 32 kg. Ovviamente il peso è rimasto uguale, però l'ultima volta l'ho sentito abbastanza pesante, quindi rimaniamo così per ora. Poi nel caso aumenteremo la settimana prossima. Andiamo con l'esercizio. Ragazzi, ultimo esercizio per le gambe. Abbiamo un po' di parci. Avremo 3 serie per 15 con 60 kg. Ragazzi, adesso addominali. Come primo esercizio faremo crunch alla corda. 20 kg, 3 serie per 15. Ragazzi, adesso andiamo a vedere. Uh, durissimo con l'esercizio. Crunch con il peso alla corda, qui è durissimo. È incredibile. Ragazzi, adesso faremo il laterale. Faremo il laterale alla panca. Cioè, sopra la panca, adesso vi faccio vedere che esercizio è. Una specie di crunch su panca. Laterale, faremo 3 serie per 12-15 anche a lato ovviamente. Ci vediamo l'esercizio direttamente. Isercizio. foam. Buon appetito. ragazzi non potete capire sono esercizi distruttivi con i pesi gli addominali con i pesi fanno malissimo ve lo assicuro ragazzi provate se avete una latemachine a casa non so qualche peso provate è distruttivo ragazzi ve lo assicuro ultimo esercizio adesso passiamo al crunch inverso reverse crunch ovviamente 3 serie per 15 20 2 3 4 4 5 6 ragazzi l'allenamento terminato mi sento distrutto un macchino proprio gli addominali sono state la cosa più brutta di questo allenamento però i benefici poi arriveranno adesso ci vediamo il check fisico e niente vediamo la settimana prossima ovvero la settima partiamo lunedì con rispetto bella ragazzi iscriviti al canale